La 7, benvenuto negli studi dell'area che tira, Matteo Renzi, bene, lei crepi, molto bene, ho visto che negli spot lei dorme vestito, non è una bella immagine, anche perché della nudo non deve essere granché, ma insomma va bene, no, è per essere sempre sempre pronto ovviamente scattato, spot bene, bocca al lupo a tutta la relazione, mi piace che lei veda viva molto i social, direttore di Trader Riformista, oggi un'apertura sobria, moderata, come nello stile di, si, non commenta, come, nello stile, no, guardi, c'ho questo, il compagno padrone, C'ho questa strepitosa macchina tecnologica di cui mi ha adottato la 7, ecco, il compagno padrone, posso fare anche le riprese, così faccio anche il cameraman, Cairo risparmia Il compagno padrone, no, veste, guarda che no, ma studio nuovo, ma che dice, chi risparmia? Beh, sì, perché Maurizio Landini mi ha mostrificato per anni sul Jobs Act dicendo che il Jobs Act levava diritti e scopriamo che la CGL licenzia e che non è neanche vero Usando uno strumento di legge Usando, certo, ma la CGL ci fa tutta la retorica, la polemica contro di me, attacca il Jobs Act che ha creato un milione e centomila di posti di lavoro, cioè ha creato assunzioni, non ha fatto fare licenziamenti E la persona licenziata, che è l'ex portavoce della CGL Gibelli, è stata licenziata non col Jobs Act, perché il paradosso dei paradossi, c'è un pezzo di Nannicini a pagina 11 Che Nannicini è il padre della Jobs Act, il pezzo di Nannicini spiega come se l'avesse licenziato col Jobs Act avrebbe avuto più soldi Non si faccia l'autorassegna stampa sul suo giornale Vengo gratis, posso leggere anche il fatto se vuole? No, no, il fatto quotidiano lo vediamo tra poco Vengo gratis qui alla 7, non è che sulle conferenze all'estero, tranquillo Ecco, no, l'ha detto lei, sulle conferenze all'estero appunto, perché oggi il fatto quotidiano, volevo tenerlo in fondo ma l'ha citato lei Strasburgo, ecco il regolamento che inguai a Renzi Vado a leggere, nel tentativo di riprendersi dallo scandalo del Qatar, il Parlamento europeo vota oggi Una modifica al regolamento con l'obiettivo di rafforzare l'integrità e l'indipendenza Cioè, sostanzialmente, cosa dovrebbero fare? Già passata in commissione, con il voto dei socialisti Ma credo anche il nostro No, non lo so questo, se anche i nostri hanno votato a favore Ma io penso di sì, ma guardi che questa roba è una roba che dimostra che il fatto quotidiano è leggermente, come possiamo dire, infervorato o concentrato su di me Va benissimo questa legge, anche perché gli scandali sono quelli di chi prende le tangenti, non di chi fa l'attività legale Io mi voglio... Chi parla di lobbying, spieghiamolo bene, cioè loro in questo regolamento si dice, abbiamo avuto il Qatargate Tutti coloro i quali, stati o deputati, che hanno rapporti... Va benissimo, giusto? Trasparenti, ne so che lei ha ricevuto i soldi per aver fatto l'amministrazione No, ma scusi, non faccio casino, Parenzo Allora, vediamo gli aspetti Primo punto, le regole del Parlamento europeo vanno benissimo, siamo d'accordissimo e non riguardano il caso specifico Due, non ho nessun tipo di difficoltà a dire che se mi candido per l'Europa Anche rinunciando a tanti incarichi a livello internazionale Lo faccio perché penso che la situazione sia molto complicata L'Europa non sta toccando palla Oggi Ursula von der Leyen ha fatto un discorso sullo Stato dell'Unione, anche molto bello Ma l'Europa, tra Cina e Stati Uniti, non tocca palla L'India va sulla Luna e l'Europa non riesce ad andare a Lampedusa Perché abbiamo un'Europa che continua a guardare il dito mentre il dito indica la Luna Allora, secondo me c'è bisogno di mandare in Europa gente che sa di cosa si parla E che ha un bel caratterino per farsi sentire Quello lei ce l'ha Io diciamo, sul caratterino penso di aver dimostrato di potermela giocare Il punto centrale è che l'Europa ha bisogno di una scossa, di una sveglia Svegliamo l'Europa Però lei dice una cosa, c'è stata una notizia, una cosa interessante Cioè dice, io mi candiderò alle europee Adesso parleremo della sua idea, del centro, del suo nuovo partito Ma se dovesse andare in Europa non farò più consulenza all'estero, incarichi Io seguirò le leggi, dopodiché le leggi le ho sempre seguite Parenzo mi hanno massacrato dicendo che io non seguivo le leggi Non vogliamo dire che per cinque anni sono venuto in televisione tutti a dire Ma Renzi non rispetta le leggi Oggi abbiamo scoperto che chi non rispettava le leggi erano i magistrati che indagavano su di me Oggi la Corte Costituzionale ha detto Renzi aveva ragione, il PM di Firenze torto La Cassazione cinque volte ha detto Renzi aveva ragione, il PM di Firenze torto Allora mi hanno fatto una capatanta, per non dire un'altra cosa Dicendo che io non mi comportavo in modo legale Mi sono sempre comportato in modo legale Ora che abbiamo chiarito questo, cortesemente possiamo parlare di politica Perché io posso stare ore con lei a ragionare di mondo internazionale Sulla Arabia Saudita, quanto mi avete fatto una testa tanta Oggi questa rete, la rete in cui sono qui, la 7 Ha comprato i diritti del campionato di calcio saudita Come è giusto che sia Perché? Perché è un paese, come ho sempre detto È un paese che stava cambiando, che stava crescendo Vogliamo parlare di altro, vogliamo parlare della Cina Ma è legittimo, ma è legittimo Io mi guardo le partite anche perché c'è Ronaldo, Benzema Ci sta cambiando il mondo È un esempio che le faccio, gliene faccio 10.000 Quando vi dicevo che l'Africa sta crescendo Guardate che il Congo da qui a 7 anni passa da 110 milioni a 200 milioni di abitanti La Nigeria arriva a 4,50 Il mondo sta correndo Allora, amici cari, ce la diamo una sveglia come Europa O continuiamo a pensare che siccome noi siamo europei Tutti vengono e ci rincorrono? Per me bisogna dare una sveglia Se per dare una sveglia io devo lasciare degli incarichi Ma certo che li lascio La cosa che dico agli italiani è mandate al Parlamento Europeo A gente che sa di cosa si parla Gente che non lascia a metà il lavoro Lì è facile per Lorenzi Lì c'è un sistema che si chiama preferenze Ed è bellissimo E quindi le persone che stanno qui a casa Avranno una scheda E metteranno un nome e un cognome No, basta il cognome Sì, però per dire che mai un sistema come quello è Io ho scelto quella persona E siccome mi hanno sempre detto Che io non ci mettevo la faccia Che io pensavo soltanto ai giochi di palazzo Ora, sui giochi di palazzo Qualcosa ho combinato È vero, lo ammetto Sta pensando a qualcos'altro No, sto pensando A metterci la faccia e dire Chi mi vuole mi vota Chi non mi vuole non mi vota E però questa libertà È la libertà di chi Come posso dire Non ha paura del confronto elettorale Non sta su Twitter O non sta dalla mattina alla sera A nascondersi dietro i capi correnti I capi di partito Quindi mi vogliono votare Io mi candido in Lombardia In Piemonte In Liguria In Valerosta Sa perché al nord L'impresa L'industria Qui noi abbiamo un mondo A livello europeo In cui continuano a menare L'industria europea Cioè la politica europea Di questi anni Ha menato contro l'industria europea Complimenti Ci arriviamo subito Poi ci si stupisce Se vanno avanti i cinesi Strano eh Però per chiudere il capitolo giustizia Il CSM Il Consiglio Superiore della Magistratura Oggi dovrebbe nominare Gratteri Capo della Procura di Napoli È una nomina che la convince? Le piace? I politici non devono mai Valutare le scelte del CSM Ci mancherebbe Bisognerebbe anche Che fosse a parte invertite Cosa che il CSM O meglio Una parte del CSM O meglio Le correnti Alcune correnti Si dimentica Penso che Nicola Gratteri Sa che io lo volevo Ministro Come no? La giustizia Perché è uno di quelli Che è capace di scardinare Un sistema E quando nel 2014 Proposi lui Anche venendo da storie diverse Perché Gratteri Ha una forte esperienza Internazionale E nazionale Dove però è molto attaccato Dai garantisti Io ero convinto Lo sono tuttora Che se lui fosse diventato In quella fase lì Ministro Della giustizia Avrebbe dato un bel segnale Di svolta È andata in un altro modo Oggi Se farà il procuratore di Napoli Gli faccio i miei Più grandi auguri In bocca al lupo La politica resti fuori Dalle scelte dei PM E io ne sono ovviamente Quello ci mancherebbe Se lei ha ricordato Dopodiché i PM Che vogliono far politica Per un PM che fa politica Ce ne sono nove bravi Che non fanno politica Quello che fa politica L'ho beccato io Ma adesso l'ho denunciato È davanti al CSM Adirettore È sempre un clima rilassato Mi pare Guardi con me Quando uno è Quando è sicuro Di essere innocente Di aver fatto tutto bene Se ha coraggio Guarda in faccia le persone Dice Io non ho commesso reati Tu che hai fatto? E questo vale Non facciamo nomi Cognoni Quando uno governa Oggi lo dice anche la Meroni Forse ce l'abbiamo quell'audio No? Ieri all'assemblea Di Fratelli d'Italia In cui dice Io avevo un periodo In cui mi arriva addosso di tutto E soltanto siamo al primo anno Ce l'abbiamo l'audio? No l'audio no Forse La frase di quello che ieri La Meloni ha detto Lei in questo è abituato Però bisogna anche Uniscano le loro riprese No 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 E poi Ti benvenuti Mi prego Il saluto Oggi andiamo via Grazie 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 Ma l'opposizione Fratelli d'Italia Ma dico Giorgia Meloni Per essere credibile La questione Meloni La libertà del fatto La libertà del fatto di scrivere Quello che vuole Ha un limite Che è quello che Quando il fatto diffama Se diffama Ed è un magistrato Che decide Il fatto Come tutti gli altri Deve pagare Come il fornista Come la sente come tu C'è la sindrome del politico Ha capito cosa intendo I politici Devono rispettare la stampa Che Giorgia Meloni Chieda Che su sua figlia Su sua madre Vi sia il rispetto Che si deve A delle persone Che non c'entrano niente Con la scelta di Giorgia Meloni Di fare il presidente Io ci sono passato Io ci sono passato Perché i miei figli Hanno sofferto Per questo Allora Io dico Troviamo un equilibrio Nel attaccare il politico Come è giusto che sia E non mi pare Che la Meloni Sia una di quelle Che si tira indietro Se viene attaccata Come io Come tanti altri Quello che però Non torna Davide Secondo me È Meloni Non è credibile Nel lamentare L'aggressione Alla famiglia Quando il suo partito Fratelli d'Italia Ha massacrato Mediaticamente Intere famiglie Quando le dicevo Della corsia preferenziale È perché un consigliere Regionale Di Fratelli d'Italia Si è messo a spiare E a controllare Da dove passasse mia moglie Ed era legittimo il luogo Però poi ci hanno fatto Una campagna di comunicazione Allora Se ci mettiamo d'accordo Nel non dar noi alle famiglie Dobbiamo farlo con tutti Poi la stampa Fa il suo mestiere Anzi Evviva Io penso che la Meloni Dovrebbe preoccuparsi Di problemi diversi Benzina Aveva detto che lei Avrebbe diminuito Le accise sono cresciute Immigrazione Guardi che a Lampedusa È un casino Aveva detto Chiudiamo i porti Hanno chiuso Semplicemente Il dossier Non ne parlano più Ci sarà piante dosi Alla festa Ne parleremo con lui Sabato Alla festa di Televiva Hai invitato Piante dosi Poi c'è il ministro della salute Salute Lavoro Lavoro Riforma e giustizia I temi su cui c'è Una discussione aperta Mezzo governo E l'opposizione Diciamo C'è una persona Che avrei voluto vedere Conte L'ha invitato Conte Conte devo dire Che non vuole neanche Scrivere sul riformista E un po' mi dispiace Questo lo capisco Avevo detto di scrivere la pagina Perché sia il super bonus A Patronelli e agli altri Ma mi hanno detto di no Dicono che con il riformista Non scrivono Ha provato a invitarlo Conte Guardi vi dico di più Ho fatto una cosa ancora più bella Io avrei fatto volentieri Alla festa di Italia Viva Ma anche dall'altra parte Un dibattito Con Conte sul super bonus O il reddito di cittadinanza Ricordo che Conte propose Di fare un referendum Senza scorta Non un referendum Referenducelo qui Un contrasto Un dibattito Un dialogo in piazza A Palermo Ma disse senza scorta Come se mi volesse menare Venga Venga qui Venga qui Senza scorta Lo disse proprio in collegamento Se non ricordo male Con la Sette L'altro Che avevo L'altra Che avevo invitato Era Elislein Perché Elislein Sul Jobs Act Il PD ha votato Il Jobs Act Il Jobs Act Ha portato più di un milione Di posti di lavoro E il PD Che ha votato Il Jobs Act Ha proposto Il referendum Conte al Jobs Act O di quelli Vieni A fare un bel dibattito El Sentiamo Ce l'abbiamo pronta Così l'ha L'ha introdotto lei Avete visto Qualche giorno fa Sotto il nubifragio Che ha colpito Genova L'immagine di quel ragazzo Sotto la pioggia Battente Che pedala Perché deve comunque Fare una consegna Per mangiare Non è accettabile Che ci siano lavori Che 15 anni fa Non esistevano E che non hanno Nessuna tutela All'assicurazione Alla malattia Alle ferie Pagati e sfruttati A cottimo Per pochi euro A consegna È tempo Per noi Oggi È il nostro tempo Per scrivere Le nuove tutele Del lavoro Che cambia Altrimenti Non saremo credibili Agli occhi Di quelle ragazze E quei ragazzi Che ogni giorno Vivono queste condizioni Sulla propria pelle Eh Renzi Mi sembra Una cosa Sono d'accordissimo Con Alice Schlein Di sinistra Io sono d'accordissimo Con Alice Schlein Lei capisco che sia stupito No no Io ascolto Registro Perché Alice Schlein Non ha letto Il Jobs Act Basterebbe che lei Facesse una Ha votato I deputati che l'ha votato L'avranno letto Infatti hanno votato a favore Il PD ha votato a favore Lo diciamo Facciamo un servizio pubblico Servizio di pubblica utilità Se ci sono state Delle sentenze Che hanno aiutato I riders In questo paese Mi pare Milano Ed altri Abbano fatto delle sentenze Che vanno nella direzione Di dare qualche tutela In più E la stabilizzazione E quella tutela Per i riders E qualche tutela Soprattutto È perché si sono agganciati A una norma Del Jobs Act Alice Schlein Chiami Tommaso Nannicini Che è del PD È il professore Che ha fisicamente scritto Il Jobs Act Insieme a Giuliano Poletti A Teresa Bellanova Ex ministro del lavoro A Piercarlo Padoan A Claudio De Vincenti Tutta gente che viene dal PC Nannicini dal PSI Ma tutta gente che viene dal PC PDS e DS E si faccia spiegare Che c'è dentro il Jobs Act Perché non l'hanno letto Quindi il problema Non è dare delle garanzie A chi non ne ha Il problema è che Attraverso la decontribuzione Di rap costo del lavoro Industria 4.0 Le misure Di incentivo Dal patent box All'ace Nen quella stagione lì Che il PD Ha votato Si sono creati Più di un milione Di posti di lavoro Però lei dice Bisogna riportare Il partito più a sinistra E mettere al centro In modo diverso I diritti dei lavoratori Ma io sono favorevolissimi Ai diritti dei lavoratori Mi trova uno Che ha dato più soldi In busta paga Del governo Renzi? Perché gli 80 euro No 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 Non c'è nessuno Che ha dato più di noi Io Sono stati i provvedimenti Di un governo Prodi Che non ricordo Con un cuneo fiscale Importante Il ministro si chiamava Treu Treu certo Tiziano Treu Tiziano Treu Me lo ricordo perfettamente Benissimo Che anno era? Veneto peraltro Vicentino No l'anno non me lo ricordo Mi pare che fosse migliorato Nel 1997 Il cuneo fiscale Lo sta facendo anche la Meloni Benissimo Quanto valeva il cuneo fiscale Di Prodi? Meno degli 80 euro Vado a memoria Ma perché vorrei non dire Cose inesatte Perché poi c'è pagina Da politica Punto di etica Controlla Il bonus degli 80 euro Valeva 10 miliardi Per 10 milioni di famiglie Più o meno Mal contati Il cuneo fiscale Di Prodi Si avvicinava A quelle cifre Ma era un po' più basse Dopodiché Conte Meloni Chi c'era? Letta Mario Monti Berlusconi Nessuno Ha fatto Per il ceto medio Quello che abbiamo fatto noi Le faccio una proposta Momenti economici diversi Lanci la proposta E poi una domanda finale Momenti economici diversi Ma noi abbiamo tirato fuori i soldi E non avevamo spazi di bilancio Come quelli che ha avuto Ad esempio Giuseppe Conte Grazie alla pandemia Eppure abbiamo dato più soldi al ceto medio La notizia qual è? C'è una proposta Su cui Se il PD Ma anche la Meloni Avessero davvero voglia Di dare una mano ai lavoratori Potrebbero misurarsi Il meccanismo è molto semplice Si chiama Partecipazione dei lavoratori agli utili Però è un meccanismo Che detta così È troppo arzigogolato Gliela dico in modo più semplice Oggi Chi ci sta seguendo da casa Se fa dei turni Perché se no è a lavorare O un imprenditore Che ha accesa magari La televisione in azienda Sa che Magari l'anno è andato bene Diciamo che il 2023 Si chiude bene E che fa un utile Di un milione Se l'imprenditore Quei soldi Li vuol mettere in tasca Deve pagarci le tasse Come è giusto che sia Certo Se li dà ai lavoratori Comunque lui ci paga le tasse E ci pagano le tasse Purtroppo anche i lavoratori Se scatta La soglia successiva Dell'aliquota fiscale Il meccanismo è molto semplice Tutto ciò Che va in tasca All'imprenditore Rimane tassato Quello che va In busta paga Al dipendente Non è tassato Né dalla parte Dell'imprenditore Né dalla parte E quindi rimane direttamente Nelle tasche del lavoratore E quindi è il meccanismo Simil 80 euro Di una possibilità Di aiutare Perché? Perché la gente Non ce la fa Ci sono i margini finanziari Per poterlo fare Secondo lei? Sì che ci sono Il problema è che Bisogna affrontarlo Dicendo Patto di tutti Per partecipazione Dei lavoratori agli utili Guardi che alla fine Viene in tasca Una quattordicesima Per chi prende la quattordicesima Una quindicesima E come dare Una quindicesima Sì perché tu gli dai Mille Mille duecento euro Chi ha una situazione Di difficoltà Che l'ho proposta a Giorgetti L'ho proposta a Giorgetti L'ho proposta a Meloni L'aveva detta anche Morizio L'ho proposta a Schleini A tutti gli altri E la partecipazione Dei lavoratori agli utili È la proposta Della CISL Invece che inseguire Landini Il compagno padrone Che dice cose inesatte Andiamo a ragionare Delle questioni Della CISL Io credo che però Così secondo me Come dire Non i voti I voti di chi è iscritto Alla CGL Caro Renzi Magari lei non li vuole Difficile prenderli Su questa cosa Secondo me Se le do Dopo da amico Con questo titolino qua Gli iscritti Che poi gli iscritti Sono per il 62% Pensionati Che la pensano come me Su questa cosa È una vergogna Che si sia fatto Secondo me Non è proprio Un'operazione simpatia Ma guardi Io a me Posso dirglielo Guardi me la faccia dire così Io dei simpatici Non ne posso No 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 Volete mandare i simpatici In Europa Continuate a mandare I simpatici in Europa E non si tocca valla Io sto per mandare Le persone competenti Che dicono pane al pane E vino al vino Non ne posso più Di questa ipocrisia La verità è che la CGL Mi ha fatto una campagna Conto sul Jobs Act Il Jobs Act Mi ha fatto assumere E la CGL Ha licenziato Questa è la differenza Grazie Matteo Renzi Mi scrivono solo un dettaglio Il doppio anello Mi hanno scritto qua su Twitter Questo anello È molto semplice L'anello che mi ha regalato Per vedere battito cardiaco Siccome io sono spaventosamente Allenato per la maratona Mi sono fatto un mazzo tanto Questo mi serve Perché mi dà tutti gli indicatori Sul telefonino Di come vai Come respiri Il battito cardiaco Interessante Non solo I chilometri che fai Mi sarebbe metterlo anche Per le domande Come dire Più imbarazzanti Adesso guardiamo Se vuole guardiamo Però poi comunque Ce la facciamo a provare Lo controlla mia moglie E le sa dire Va bene Grazie a Matteo Renzi Grazie a voi Grazie a tutti